È giulio 26, 2017, in Padenge Sul Garda, Brescia, Italia. Un po' immagini è al Festival Jets di Padenge Internazionale. Siamo qui con Adriano Mondini, drummer in Los Endos Project, Only Genesis Music. Ciao Adriano, come sei? Ciao, come sei? È bene. Sono molto felice oggi perché quando c'è un concerto è sempre la magia, con una fantastica musica. E sono molto felice di presentare il mio progetto. È un progetto fascinante, la musica di Genesi. Voi conosci la bandana britannica in 70 anni? E credo che Genesi sono componiste in giro musica, trasparente. Perché in quel tempo, da anni, da anni 70-80, c'era una situazione creativa, una situazione incredibile, per molti musicisti. Quando si finiscono il conservatorio in England, cominciano una nuova composizione, che si chiamano la musica progressiva. È interessante. Io spiego oboe e inglese. Io faccio la musica conservatoria in Como, e quando spiego anche l'acostico, anche la musica classica, con la musica classica. E credo che la musica classica era un'esperienza. C'era Luciano Berio, Carline Stockhausen, L'Ado Decafonico, di Schoenberg, Bruno Maderno in Italia. C'era una musica, la musica specializzata con l'esperimentale, l'esperimentale. L'esperimentale, 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 l'esperimentale. e l'esperimentale. Credo che si chiamano la musica progressiva. L'esperimentale è un'esperimentale. E' un'esperimentale, che si chiamano più di le squadre. che si chiamano la musica. L'esperimentale, a Maler, Gustav Maler, Stravinsky, Bartók, Bruckner, Debussy, Ravel, Prokofiev, Rachmaninoff, etc. Per questo lavoro in musica classica, ma ho scoperto che la musica britannica, la musica vulgare è chiamata rock band, rock musica è più stressante, e siamo molto felici di fare i Los Tendos, e facciamo la musica genesis, semplice. Non distribuiamo, non distribuiamo, non è cover di niente, e facciamo la musica genesis, e siamo molto felici di parlare con te. Grazie! Benvenuti, vediamo!